Molto spesso il monitor viene connesso alla camera tramite una testa a sfera. Il problema di questo strumento è che per essere manovrato richiede due mani, una sulla vite di serraggio e l'altra al supporto del monitor. Ovviamente quando ci si trova su bazooka o su treppiedi questo non è un problema, ma su spallaccio sì. Un'alternativa sono i bracci a frizione variabile, che permettono di orientare il monitor con una mano sola, senza bisogno di allentare viti. Il problema dei bracci è che non di rado struiscono almeno parte delle connessioni, in questo caso, per esempio, montando il supporto a destra si rende difficoltoso l'accesso a SDI e montandolo a sinistra si sacrifica l'HDMI. La soluzione migliore, a mio avviso, sono quindi i supporti snodati a frizione variabile, perché funzionano come i bracci e quindi una volta regolato il livello di resistenza possono essere orientati con una mano sola, ma allo stesso tempo occupano lo spazio di una testa a sfera. Il limite di questi strumenti è che offrono una quantità di combinazioni pan-tilt leggermente inferiore alle teste a sfera. Nella pratica, però, è estremamente raro che ciò rappresenti un problema.